questo tutorial voglio farti vedere come progettare un poster con in design facendoti vedere alcune tecniche diverse per creare appunto il poster quindi vedremo nello specifico come creare una tabella anche se in questo caso immagino tu non veda tabelle come andare a progettare a creare questo effetto particolare sul sull'immagine e poi applicare tutto tutto il resto che vedi come ad esempio questo questo taglio qui che non è frutto di una sovrapposizione di cornici ma un vero e proprio taglio come succede con illustrator andiamo quindi a creare il nostro documento che è un semplicissimo tra io in questo caso andrò ad aggiungere semplicemente una pagina perché mi trovo già nel documento a vado a creare su margine colonne il mio layout quindi in questo caso uso inserisco le mie cornici e le mie varie colonne quando sono soddisfatto clicco su ok e vado a creare i miei campioni in questo caso i campioni principali sono il verde e l'azzurro e quindi mi vado a creare la mia cornice azzurra che poi dovrà essere posizionata sulle parti sulla pagina al di sotto punto in fondo alla pagina per creare questo taglio la prima cosa che devo fare è creare appunto una piccola cornice di colore bianco in questo caso che andrò ad allineare con lo strumento a linea ai margini quindi seleziono margini e quindi vado su a linea command c o control c incolla poi nella stessa posizione e quindi di nuovo seleziono lo strumento già selezionato perché appena incollato e lo allineo poi al margine al di sotto mela a o control a per selezionare tutto e quindi vado sullo strumento elaborazione tracciati e quindi clicco sul tasto sottrai in questo caso abbiamo creato una cornice con questi forellini andiamo quindi a creare un'altra piccola cornice della grandezza della nostra colonna che andremo poi a posizionare al di sotto in questo caso la creiamo della grandezza della colonna e poi la facciamo uscire sulla su sui al di fuori della pagina in modo che non ha in modo da non avere problemi andiamo ad applicare il nostro colore verde quindi portiamo disponi porta sotto e quindi applichiamo il nostro effetto al di sotto della cornice andiamo infine a creare la nostra linea che deve essere della metà deve essere posizionata al centro della nostra cornice come facciamo ad applicarla al centro della nostra cornice innanzitutto gli diamo un colore così riusciamo a vederla nitidamente applichiamo poi un po di spessore e quindi i vari nostri effetti quindi ad esempio possiamo inserire un punteggiato per posizionarla al centro esatto in questo caso è già al centro esatto però per farlo ci basta selezionare sia la linea che la cornice verde al di sotto e quindi andare su a linea alla selezione in questo caso e quindi andiamo a posizionarla al centro in questo caso mi sembrava al centro invece non lo era lo la vado a riproporzionare come meglio credo è a questo punto che sono soddisfatto vado a inserire la mia immagine ma prima di inserire la mia immagine voglio che voglio raccontarti qualcosina in più su questa immagine come vedi è un'immagine scontornata un'immagine scontornata con photoshop a cui abbiamo applicato lo stesso effetto o più o meno un effetto molto simile dell'effetto applicato alla mia foto profilo nel tutorial del curriculum creativo ora purtroppo però quel tipo di effetto si può applicare solo con indesign solo con immagini jpeg o tif in scala di grigio quindi non vale per immagini scontornate come questo ora io come sono riuscito molto semplicemente ho selezionato quello che è il mio colore mi sono preso i vari riferimenti colore e sono andato a modificare la mia immagine con photoshop eccoci su photoshop come puoi vedere oltre tutti i vari scontorni del caso ho semplicemente creato un livello tinta unita al quale poi ho applicato i miei riferimenti colori salvata l'immagine non mi resta che portarla su in design e inserirla me la dio contro il d per inserire la nostra immagine di walter white di breaking bad e la posizioniamo al dove più crediamo sia opportuna ecco qui va più che bene non ci resta che andare a creare il nostro titolo a questo punto andiamo a creare la nostra cornice e quindi all'interno inseriamo il nostro font in questo caso io scelgo ho scelto un circolo bold andiamo aggiustare tutte le varie impostazioni fatto questo selezioniamo la cornice e andiamo nel pannello campioni non dobbiamo selezionare il testo scegliamo questa t e quindi applichiamo il nostro colore verde dobbiamo infine semplicemente andare a inserire la nostra cornice nel posto giusto in questo caso io uso le colonne per applicare la cornice nel posto giusto zoom per andare a vedere se stiamo facendo tutto nella maniera corretta ok quando siamo soddisfatti andiamo a riproporzionare poi tutto in questo caso non voglio che la ti vada a combaciare con la bocca di walter detto questo non ci resta che andare a creare la nostra cornice ora perché io non ho creato una semplice cornice intanto perché voglio farti vedere un metodo diverso per impaginare appunto su in design ma mi sono impallinato su questo allineamento di questi trattini e quindi mi sembrava troppo complesso andarlo a realizzare con gli stili di paragrafo e quindi vuoi però farti vedere un metodo nuovo vuoi per questa fissazione che mi è venuta nella creazione di questo tutorial ed eccoci qua a creare una bella cornice con contenente la nostra bella tabella 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 quindi inserisci tabella in questo caso faremo due righe corpo due righe colonna e andiamo a inserire la nostra data tab per passare alla cella successiva e scriviamo il nostro testo tab di nuovo per inserire la data ora posso andare applicare i vari miei stili per quanto riguarda la data abbiamo sempre un circular bold e per quanto riguarda il testo abbiamo un circular book un modo anche molto veloce per copiare lo stile testo è andare a campionarlo con lo strumento contagoccia a questo punto andiamo ad applicare i nostri colori per quanto riguarda il testo seleziono tutto il mio testo e quindi vado ad applicare il mio bianco e quindi per quanto riguarda invece le mie date vado ad applicare sempre ricordandomi di selezione la t di testo il mio verde ora voglio andare a formatare un pochino meglio voglio più spazio voglio uno spazio preciso e quindi vado a dire che la la mia larghezza altezza cella deve essere di almeno 18 mm idem per ciò che riguarda la cella inferiore vado poi a selezionare tutto vado poi a centrare il testo all'interno della cella per quanto riguarda invece il titolo del film io voglio una giustificazione più a sinistra ma sempre centrata all'interno della cella ora non è finita purtroppo perché in design di default applica questi simpatici stili colorati che noi invece vogliamo eliminare andiamo a specificare 0 e quindi 0 in tutti i casi e quindi come vedi sono riuscito a creare il mio piccolo poster su in design in maniera molto veloce quindi ricapitolando ti ho fatto vedere come applicare un psd un colore quindi rimportarlo anche su in design anche se appunto tecnicamente non è esattamente lo stesso effetto che ti ho fatto vedere nel tutorial del curriculum creativo è qualcosa che ci si avvicina molto ti ho fatto vedere come ritagliare all'interno di in design delle forme e ti ho dato la possibilità di soddisfare il tuo ego schizofrenico che vuole tutto perfettamente allineato usando le tabelle e non una classica cornice di testo e gli stili di paragrafo questo è tutto per il resto ti aspetto su in design startup per continuare la tua crescita con in design Grazie a tutti